mi dice che c'è un sentiero che è impossibile da fare in bicicletta andiamo a vederlo questo lo va a tagliare fresco è che gli ha chiuso il passaggio o che già era a cattà del vento vediamo questo vedo un precipice qua se non è non si può fare e lì è peggio ci stiamo in giro 30-40 metri no no a meno che ci sono magari persone quelle che fanno da un hill che riescono a fare cose impossibili qua che guarda che scalini ragazzi io bisogna saltarlo bisogna fare un salto e poi è tutto ripidissimo dopo un'altra rampa ancora peggio ancora peggio questa è passibile con fatica e dopo che non puoi lasciarci tutti i scalini così no scalini ma fatti solo quella terra ho un passaggio perdonale in effetti qua non vedo i miei bidetti ok si collega più avanti questo qua siamo della parte nord della montagna e adesso noi proviamo a scendere vediamo se troviamo qualche ingresso